ciao a tutti e bentornati a pillole di storia io sono i cudo e questa è la biblioteca di alessandra la comunità di appassionati di storia cultura cinema di cui potete far parte se volete perché in descrizione trovate tutti i link al nostro gruppo facebook alla pagina instagram che cerchiamo di aggiornare ogni giorno con qualche curiosità storica o legata al canale e ovviamente il gruppo telegram tra l'altro in descrizione trovate altri due link oggi perché oggi apriamo una pagina particolare delle della nostra biblioteca andiamo infatti nella stanza dedicata al mondo di orbis l'ucronia si cosa sarebbe successo se l'impero romano d'occidente fosse sopravvissuto ebbene oggi trovate altri due link innanzitutto la playlist con tutti i più di 50 episodi dedicati a questa ucronia e il secondo finalmente il link della wiki la wiki che è stata creata da voi letteralmente da voi da un gruppo di voi dedicata al mondo di orbis che sta continuando a venire espansa con un sacco di materiale scritto ma anche visivo immagini ci sono tutte le bandiere che stanno venendo man mano create grazie a luca di marsico che me ne ha mandate anche quindi qualcuna la vedrete probabilmente anche oggi tra le immagini sta venendo su un lavoro fantastico un lavoro che vi invito se siete appassionati di questo mondo ad andare a vedere perché permette di riscoprire letteralmente personaggi realtà storie guerre di cui devo essere sincero anch'io ogni tanto faccio un pochettino fatica a ricordarmi quindi stanno facendo un lavoro meraviglioso li ringrazio tantissimo se avranno voglia in futuro faremo una live proprio dedicata a loro a chi ha partecipato al lavoro della wiki così mi racconteranno un po' come è stato lavorare sulla wiki e andarsi a rivedere tutti i video i video vecchi ma soprattutto chiederò loro di dirmi un po' che cosa ne pensano di orbis e della sua evoluzione lo faremo non ovviamente questa settimana perché questa settimana faremo una live domenica sera dedicata al conflitto israelo palestinese ma credo la prossima quella successiva sarà proprio dedicata a questo e aspetto tutti quelli che vorranno partecipare anche solo a voce la storia di oggi però è dedicata a dieci anni specifici tra il 1620 e il 1630 ora la situazione soprattutto nell'europa occidentale con dove in corso una lunga guerra iniziata nel 1606 per motivi prettamente religiosi o meglio religiosi e il trono di rongobardia che è sempre un buon guadagno e però col tempo voluto in una situazione molto complessa non farò un lungo un riassunto perché porterebbe via veramente 5 6 minuti se vi siete persi lo scorso episodio o gli ultimi due episodi andatevi a vedere così almeno avrete ben chiaro tutto quello che è avvenuto fino adesso nel 1630 comunque la situazione militare all'interno dell'impero non era così facile è vero che erano riusciti a sconfiggere le prime invasioni che fossero i boemi di wallenstein che erano calati verso la dalmazia che fossero le forze normanne guidate da tilli che avevano occupato la provenza e poi si erano spinte fino a torino per poi venire appunto da qui respinte dalle forze di ottaviano piccolomini che fossero invece in spagna dove le ribellioni religiose avevano portato sul trono galerio olivares che era stato poi sconfitto e si era uccidera stato ucciso prima che potesse appunto ulteriormente rivendicare il trono creare caos in realtà però la situazione in spagna continuerà per alcuni anni ad assorbire il grosso dell'esercito imperiale anche perché la spagna è una regione molto popolosa seppur proprio durante questi anni tenderà a spopolarsi a causa del dilagare dell'epidemia di peste che colpirà in maniera più leggera l'italia colpendo principalmente il nord ovest mentre infurierà proprio in spagna a causa della della guerra civile in corso montecuccoli che inizialmente nel 1630 sperava di poter unire alle sue forze a quelle di piccolomini e di invadere la normandia sarà invece costretto a rimanere fino al 1634 in iberia per sedare numerose rivolte nel 1631 il cuore della rivolta era la città di valencia che seppur assediata da terra continuava a ricevere aiuti via mare grazie alla ribellione della flotta spagnola che si era unita ai rivoltosi in andalusia e che continuava a rifornire via mare la città le forze di montecuccoli vennero però integrate da un secondo esercito inviato dall'impero guidato peraltro proprio dall'ex vescovo richivaldo divenuto nel mentere cardinale richivaldo che guidò accompagnò le truppe in spagna e monitorò personalmente l'assegno di valencia che venne completato solo dopo la costruzione di un'incredibile barriera via mare vedete l'immagine peraltro del quadro dedicato proprio a richivaldo sulla su questa barriera che permise di isolare la città e all'inizio del 1632 nel gennaio del 1632 obbligarla alla resa richivaldo accompagnò le truppe nella conquista nonostante avesse più volte dimostrato di essere un uomo molto ragionevole con gli apostolici non si dimostrò altrettanto con i puritani che perseguì duramente nel corso di questi anni preferendo molto spesso la spada agli accordi convinto com'era che la ribellione dei puritani fosse prima di tutto una ribellione contro l'impero e per questo ha deciso a punirla in realtà molto probabilmente era anche in atto una vera e propria lotta di potere sapeva che colpendo e punendo i vescovi sostituendo con vescovi a lui o meglio alla corona teoricamente a giovanni secondo fedeli sarebbe riuscito ad ottenere poi quello che era il suo grande obiettivo cioè una futura riconciliazione tra gli apostolici e i conciliaristi nel 1632 ottavio chiccolomini comunque passò all'offensiva in provenza risalì la valle del rodano ma ne venne scacciato da forze normande superiori che lo costrissero a rientrare in italia tramite inizia forze guidate da luigi di borbone con te che passerà la storia come il gran condè che aveva sostituito tilli il quale era stato invece inviato nel nord a combattere contro gli anglo brandeburghesi gli anglo longobardi l'impero inoltre aveva grossi problemi anche sul fronte orientale perché proprio nel 1632 due mesi più tardi nel maggio le forze di wallenstein erano tornate a spingersi dalla dalmazia verso l'italia e avevano battuto le forze romane vicino alla cittadina di lubiana sottomettendo così definitivamente la dalmazia e costringendo le forze imperiali a difendere il fronte nella zona di trieste le uniche vittorie in questi anni del fronte oltre ovviamente a quelle spagnole vennero colte invece da enrico di salisburgo vi ricordate il comandante delle forze del nori col quale dopo aver liberato parte della propria patria in gran parte però ancora sottomessa alla boemia aveva risalito lungo la longobardia sfruttando il passaggio che gli era stato concesso dal duca di baviera e aveva raggiunto il brandeburgo dove si era unito ai suoi vecchi alleati in particolare si era unito al loro comandante hans von manstein il quale oltre sia stato pronunciato malissimo da me aveva condotto una brillantissima campagna proprio insieme ad enrico di salisburgo portando le sue forze a liberare quelli che un tempo erano i territori del dell'ordine teutonico spingendosi poi in polonia costringendo così il re di boeco polonia ungheria mattia a richiamare parte delle forze di wallenstein per spedirle a nord a contrastare quest'invasione alleggerendo così la pressione sull'impero il 1634 però si apre con un'altra tegola per la fazione infatti le forze di tilly che come detto aveva assemblato un esercito e aveva liberato peraltro definitivamente le province unite si spinsero contro quelle del duca di buckingham che ancora difendeva la sassonia sconfiggendole duramente e costringendo gli ultimi inglesi a reimbarcarsi per tornare in patria da qui tilly si era spinto verso il brandeburgo occupando la città di magdeburgo e poi spingendosi verso berlino con l'intento di prendere alle spalle le forze del ducato il 1635 però vedrà il ducato di brandeburgo passare al contrattacco le forze del norico e del brandeburgo stesso infatti torneranno dalla polonia affronteranno quelle di tilly in una battaglia poco distante proprio da magdeburgo e lo sconfiggeranno peraltro uccidendolo in battaglia magdeburgo che era diventata appunto la base verrà assediata per sei lunghi mesi e alla fine costretta alla resa verrà orribilmente razziata e distrutta divenendo un monito a tutte le distruzioni che questa guerra stava portando alla longobardia che che appunto tra una guerra che ormai durava da quasi 30 anni la peste e tanti altri problemi era oramai realmente in ginocchio la vittoria di magdeburgo scatenò un vero e proprio effetto avalanga lo stesso mese infatti montecuccoli e piccolomini erano finalmente riusciti a riunire le forze montecuccoli aveva ovviamente lasciato un contingente in spagna riunite le forze avevano attaccato la normandia da sud da due parti convergendo verso la valle del rodano dove avevano sconfitto definitivamente le forze del gran condè dopodiché risalendo verso la borgogna per puntare verso parigi wallenstein dall'altra parte aveva ricevuto l'ordine di cercare di tutto per tutto sfondare dalla dalmazia verso la pianura padana cercare di raggiungere roma e obbligare le forze imperiali a rientrare verso l'italia il suo esercito però era stato fermato da quello di ambrogio spinola vicino ad aquileia battuto e costretto a rientrare in verso la boemia mentre le forze di ambrogio spinola si spingevano ad occupare l'ungheria le forze del brandeburgo entravano in polonia e quelle imperiali di piccolomini e montecuccoli si dirigevano verso parigi il fronte crollò del tutto nel 1606 il 28 settembre 1606 la boemia e la normandia chiesero ufficialmente la resa la guerra finalmente terminò l'anno successivo nel 1637 venne firmato il trattato di vienna che poneva fine a una guerra durata 30 anni una guerra lunghissima che passerà appunto alla storia come la guerra dei 30 anni era stata una guerra sanguinosissima iniziata per motivazioni religiose terminava con degli schieramenti oramai confusi e del tutto incomprensibili quello che invece fu comprensibile fu furono gli obiettivi dei vari contendenti ognuno dei quali cercò di ottenere qualcosa ognuno dei quali cercò di averne dei guadagni la pace di vienna cercherò di sintetizzarlo ovviamente sono ci sono un sacco di clausole anche soprattutto religiose che non vi starò a citare parlerò soprattutto delle clausole politico diplomatica che sono le più importanti per quanto riguarda la longobardia essa venne praticamente divisa in più parti i territori dei di lussemburgo che aspettavano alla normandia vennero annessi strappati proprio al regno di longobardia con però l'impegno da parte di luigi tredicesimo a rinunciare a qualunque rivendicazione sul trono longobardo che era stato ovviamente dei suoi zii dei suoi nonni ma che a cui dovette rinunciare la longobardia venne invece divisa il brandeburgo ottenne come premio per la battaglia vinta i territori che erano stati dell'ordine teutonico che venne praticamente esautorato rinacque come ordine principalmente monastico all'interno del ducato di brandeburgo ducato di brandeburgo che però smise di essere un ducato perché venne elevato a principato stessa cosa ricevette anche la baviera al sud che venne riconosciuta come stato vincitore essendosi ritirato dalla guerra e non non perse nessun non ebbe nessuna perdita territoriale il riconoscimento a principato fu per equilibrare la situazione l'inghilterra dovette rinunciare alla sassonia il cui nuovo duca di sassonia fu proprio enrico di salisburgo il quale rinunciò al norico per diventare nuovo duca di sassonia e peraltro per venire eletto come nuovo sovrano di longobardia una scelta che era stata appoggiata sia dall'impero sia dal brandeburgo il nuovo sovrano di longobardia però aveva dei poteri molto molto limitati innanzitutto non aveva nessuna possibilità di trasmettere il suo titolo ai suoi successori ogni volta ci sarebbe dovuta essere ufficialmente una nuova votazione inoltre accentava che praticamente tutti i domini della longobardi fossero completamente autonomi senza alcun controllo da parte sua se non tramite una dieta che veniva chiamata proprio dal sovrano qualora ci fosse necessità di unirsi tutti insieme ad esempio contro un nemico esterno l'obiettivo praticamente di tutti imperiali o no che fossero fu infatti quello praticamente di neutralizzare il regno di longobardia dividendolo nei fatti in una serie di piccoli stati frammentandoli di modo che non ci potesse mai più essere una concentrazione di forze come quella che poteva esserci qualora questo fosse usato unito all'inghilterra oppure alla normandia stessa inghilterra seppur uscita vittoriosa dalla guerra preferì infatti cedere la sassonia cosa che viene accettata appunto da tutti in cambio però ottenne il riconoscimento da parte di tutti gli stati del dominio sulla scozia che verrà in questo modo annessa ai domini inglesi o meglio il re d'inghilterra sarà dorino avanti anche re di scozio una situazione peraltro già riconosciuta come tale proprio all'interno dell'inghilterra stessa la boemia sarà invece duramente punita per il suo ingresso in guerra dovrà infatti perdere i territori ungheresi quali le saranno strappati saranno elevati a un regno autonomo che verrà affidato a un cugino dell'imperatore giovanni secondo cioè roberto d'angio borgia un ramo collaterale della famiglia imperiale il quale però ovviamente per diventare re d'ungheria rinunciò a qualunque diritto sul sul trono imperiale dall'altra parte però l'impero ottenne anche altri due vantaggi innanzitutto il riconoscimento da parte di tutti i contendenti dei diritti imperiali sul centro sud di nuova terra venivano esclusi con una linea tracciata lungo un meridiano vediamo se capite di cosa sto parlando nella nostra timeline ne venivano esclusi i territori in in brasile occupati ovviamente dalle colonie longobarde che continueranno a prosperare e a crescere ma di questo ne parleremo tra poco tutti invece gli altri territori quindi tutta la parte di nuova terra centrale anche quella ancora mantenuta sotto i territori aztechi piuttosto che tra scala venne riconosciuto come territorio di pertinenza imperiale senza che nessuno potesse cercare di stabilirvi delle colonie inoltre redenne accettato da parte di tutti i contendenti che venisse si tenesse di lì a pochi anni si terrà infatti nel 1639 un nuovo concilio proprio a roma che avrebbe dovuto cercare di sanare lo scisma d'occidente tra ovvi il grande scisma tra apostolici e conciliaristi proprio nel 1639 si tenne quel concilio colui che l'aveva fortemente voluto il cardinal richivialdo era morto però pochi mesi così pochi mesi prima ma furono i suoi successori che organizzarono questo grande concilio vi partecipò il papa adriano nono vi parteciparono ovviamente vescovi provenienti dall'inghilterra dalla longobardia dall'italia vescovi spagnoli non tutti ma non vi parteciparono i vescovi normanni e boemi che assolutamente rifiutarono di riconoscere un concilio del genere riferendo che mai avrebbero accettato il ritorno del papa a roma cosa succederà a questo concilio però me lo direte voi ne parleremo nella prossima puntata ditemi voi se ci sarà realmente un accordo e quali effetti potrà avere sul mondo di orvis un mondo di orvis che comunque vede una continua evoluzione dal punto di vista religioso perché come vi ho raccontato oramai larghe fette del nord della longobardia si sono convertite al calvinismo e già convertita al calvismo già convertita al calvismo le province unite ma dalla scozia il calvinismo sta continuando a diffondersi anche nel resto dell'inghilterra e questo potrebbe rappresentare in futuro un grosso grosso problema prima di spostarci ad oriente un ultimo appunto il norico vorrete sempre che vi parli del norico proprio dalla pace di vienna che peraltro si tende nel suo territorio il norico ricevette il riconoscimento da parte di tutti gli stati vicini come uno stato autonomo quindi non parte dell'impero non parte della longobardia non parte della boemia ovviamente importantissimo per tutti e tre perché crocevia proprio tra le tre nazioni per questo venne riconosciuto e protetto diplomaticamente da tutti e tre i vicini avviandosi a diventare sempre di più uno stato autonomo ovviamente non è la svizzera questo deve essere ovvio anche perché è una conformazione territoriale completamente diversa ma almeno dal punto di vista diplomatico la sua posizione potrebbe continuare ad aiutarla a sopravvivere spostiamoci però ad oriente e facciamolo spostandoci letteralmente molto ad oriente superando temporaneamente i territori russi fino ad arrivare nei territori dell'orda qui abbiamo lasciato l'orda di kazane guidata da berke kan che si fa chiamare però pietro pietro kan dell'orda che aveva sottomesso tutta la zona sud dopo aver spostato la sua capitale infatti ad astra kan aveva continuato la sua opera di sottomissione ottenendo nel 1634 giuramento di fedeltà anche da parte delle orde più a nord e sostanzialmente ricreando una nuova orda d'oro berke kan però sapeva che isolato non sarebbe potuto sopravvivere che il suo popolo per quanto fiero e coraggioso non sarebbe mai stato in grado di respingere un'invasione che giungesse da occidente a causa di un esercito non a livello di quelli europei per questo aveva cercato un accordo con l'imperatore di costantinopoli il quale gli aveva inviato dei suoi ingegneri tecnici militari che lentamente avevano fatto rinascere non solo astra kan che stava crescendo divendendo una vera e propria capitale ma stavano modificando la costruzione stessa dell'esercito mongolo che si stava lentamente adeguando agli standard occidentali inoltre nel 1638 lo stesso berke kan su indicazione proprio del re di grecia aveva accettato la conversione dal cristianesimo nestoriano al cristianesimo occidentale al cristianesimo niceano accettando quindi la superiorità del patriarca di costantinopoli anche sulle sue terre grazie all'invio di missionari iniziando un'opera di conversione del suo popolo opera di conversione peraltro che si era dimostrata abbastanza facile con un buon riconoscimento del nuovo credo da parte della sua popolazione lentamente però aveva iniziato anche a guardare verso oriente le sue truppe avevano iniziato a sconfinare a compiere razie nei territori della transoxariana un territorio occupato peraltro anch'esso da popolazioni di origine mongole che però avevano sempre guardato la persia come loro protettrice questo aveva scatenato ovviamente le ire proprio della persia che era intervenuta ma soprattutto che aveva iniziato una vera e propria guerra fredda con i suoi vicini del regno di grecia accusati di appoggiare le scorribande di berke kan questo si era trasformato tra 1639 e 1640 in una serie di piccole scaramucce nei territori siriani proprio tra le forze greche e quelle persiane scaramucce che chissà con questo me lo direte voi potrebbero portare a uno stato di guerra nelle prossime puntate a sfruttare la situazione potrebbero però anche essere altri perché kiev non aveva mai nascosto le sue il suo obiettivo di espandersi verso este e questa nuova alleanza tra il regno di grecia da una parte e il i mongoli del canato di kazan non poteva che rallentare i suoi obiettivi anche perché nei fatti si erano alleati proprio i suoi due principali avversari nella zona dall'altra parte a poterne approfittare potrebbero essere gli ottomani che proprio nel 1634 con la salita al trodo di murat de quarto finalmente avevano ritrovato una certa stabilità favorita anche dal fatto che l'impero seppur collassato aveva mantenuto il suo centro di potere in egitto murat che era decisamente un sultano d'altri tempi dal pugno duro e deciso in battaglia infatti dopo aver ristabilito la pace in egitto aveva guidato le sue truppe verso sud aveva iniziato una campagna d'espansione che dalle colonie ottomane nel corno d'africa si era spinta verso l'etiopia che di cui la cui opera di sottomissione però non è ancora terminata nel 1640 quando termina questa puntata e dovremo vedere in futuro che cosa capiterà dopo tutto questo ci sarebbe ancora da parlare delle colonie due sono i discorsi innanzitutto dovremmo parlare un pochettino dell'india l'india che vedete in questo momento al fianco a me è una nazione molto ricca che ha visto l'impero mugal espandersi e occuparne tutta la zona nord è una zona molto interessante ultimamente in parte lasciata da coloro che l'avevano fino a questo momento colonizzata soprattutto nella zona sud vuoi gli ottomani perché non hanno più il potere e la ricchezza per poterlo fare vuoi anche gli inglesi a cui comunque la guerra ha limitato i commerci che riprenderanno però in questi anni sarà importante capire e dovrete dirmelo voi se questo vorrà dire qualche cambiamento per l'india se l'india riuscirà a trovare una via che la porterà a una forma di unificazione continuerà a rimanere frammentate quindi in futuro eventualmente preda di chi volesse interessarsene l'altro argomento molto interessante secondo me sono le colonie americane le colonie di nuova terra come potete vedere dalle cartine lentamente continuano ad espandersi molto interessante però è ciò che succede nel centro di nuova terra qui vi ricordate l'impero gli imperiali stavo per dire gli americani non so perché ho fatto questa associazione mentale molto strana gli imperiali infatti avevano accettato che i regni locali regni meso americani quindi tra scala gli aztechi mantenessero una propria autonomia previa conversione e alleanza proprio con l'impero col tempo però si erano formate delle colonie lungo le coste inizialmente semplicemente mercantili poi si erano create delle città lentamente queste avevano iniziato a conquistare parte del territorio bene in questi dieci anni anche a causa di una fortissima immigrazione che giunge dalla spagna composta peraltro principalmente da puritani queste colonie inizieranno a espandersi e a entrare in conflitto proprio con i territori aztechi con i territori dei tlaxcala e delle altre popolazioni che ovviamente difendevano il il proprio territorio dove evolverà questo conflitto ovviamente lo decideremo insieme credo sia stata una puntata interessante come avete visto quello che noi conoscevamo come un mondo in continua evoluzione continua ad esserlo continua a modificarsi la pace di vienna può essere l'inizio di un lungo periodo di stabilità o può portare a nuovo caos così come potrebbe fare il potrebbero fare il concilio di roma qualora o ci fosse o qualora non ci fosse un accordo tra apostolici e conciliaristi come sempre il mondo di orbis lo scriviamo insieme quindi ho un aspetto altro che di leggere i vostri commenti e la prossima settimana raccontarvi un po di questo mondo prima però vi dico una cosa domenica uscirà una pillola di orbis avete visto non ho parlato di galileo galilei del sua incarnazione greca nel mondo di orbis ma ne parleremo in una pillola speciale una pillola di orbis domenica quindi ci sarà un doppio incontro domenica prima la pillola di orbis e poi la live serale ci parleremo domenica e sarà una pillola scritta apposta da emanuele che è il ragazzo che si occupa delle delle pillole di spazio così lui sicuramente aveva molte più conoscenze di me su galilei io mi fermo qua spero che la pillola vi sia piaciuta se non volete perdervi le prossime iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella io vi ricordo come al solito di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista ormai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è a domani ciao ciao